Andre, sei pronto? Dai, dobbiamo fare gli auguri a tutti i nostri amici che ci leggono sul blog e sui social. Arrivo! Andre, ma come ti sei vestito? Ma dove esce quel maglione? Mi sembri Colin Firth nel diario di Bridget Jones. Perché? Non ti piace? Volevo esprimere al massimo tutto lo spirito natalizio. Volevo portare una ventana di gioia, di allegria. Beh, con quel maglione, perfino Castano è più elegante con il papillone rosso. E allora sai che faccio? Io mi metto il cappellino di Babbo Natale. Come sei bella! Mi raccomando che il prossimo anno non facciamoci vedere così da nostro figlio. No, decisamente no. Dio, non vedo la riconoscerlo. A chi lo dici? Ehi, proprio a te che ci stai guardando vanno i nostri migliori auguri di Buon Natale. Un augurio che viene dal profondo dei nostri cuori in questo momento per noi particolarmente emozionante. Ti auguriamo di dare e di ricevere amore sempre e comunque. Perché non c'è cosa più bella dell'amore verso se stessi e verso il prossimo. Buon Natale! Buon Natale! Mi raccomando, seguici sul nostro blog volocratis.org, sui nostri canali social Facebook, Instagram e Instagram Stories. Ciao, auguri! Buone feste! Buon Natale! Buon Natale! Grazie a tutti.